Musica 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 Io posso essere solo contento dei ragazzi, di quello che hanno dato e dell'annata che hanno avuto perché hanno fatto dei miglioramenti incredibili sotto tutti i punti di vista non dimentichiamo che tanti hanno fatto esperienza per la prima volta esperienza che se la ritroveranno in futuro perché queste sono partite che ti fanno crescere anche se le perdi comunque ti fanno crescere, ti fanno aumentare l'autostima ti fanno comunque avere nel bagaglio esperienza che in futuro tornerà utile a tanti calciatori soprattutto a tanti ragazzi giovani che abbiamo Palla fuori per Sanchez, cerca Achimi Bene l'azione Lukaku E' gol, e' gol, e' gol, e' gol, e' gol E' che bella azione Eccolo che viene servito, morbida sul secondo palo E' gol, 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 Damione 4-3 Siamo poco equilibrati e dobbiamo essere secondo me un po' più bravi di avere un po' più di equilibrio e concedere meno facce le occasioni perché non è che loro hanno fatto tanto stasera, però hanno raccolto tanto da quanto hanno fatto ecco quindi sicuramente lì dobbiamo fare più attenzione e migliorare Se non sbaglio è la quarta partita che vinciamo consecutivamente in campionato viene dopo la partita contro lo Shakhtar e quindi sicuramente non era semplice rialzare un po' l'umore, il morale queste sono le situazioni dove meno si parla, più si fanno i fatti e meglio è Questo sicuramente è un gruppo che comunque ci tiene e soffre, soffre quindi è un gruppo responsabile, è un gruppo che sa, che ha voglia di fare anche nelle difficoltà, nelle difficoltà come oggi quindi sono ragazzi puliti, sono ragazzi per bene che hanno voglia di lavorare e penso ecco con il passare del tempo che diventino anche un po' mestieranti perché tante volte bisogna anche essere un po' scaltri, più furbi e questo è il tempo, l'esperienza ci darà anche questo Contra la squadra che ha vinto il nuovo Scudetto, una squadra fortissima con la squadra che tutti sanno che uno deve litigare fino al fondo per vincere il Scudetto e oggi abbiamo dimostrato che siamo lì, che siamo una squadra che ha fame che ha tutto per come siamo per lontano fino alla fine Palla col Mancino, il cross al centro E' gol, e' gol, e' gol, e' gol, e' gol E' gol, 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 e' gol Siamo contenti perché siamo più quattro di loro, siamo avanti a tutti e per questo lavoriamo. Dio, Dio, te lo devo, c******o! Eriksen che va a battere, chiama schema, attenzione, palla dentro, colpo di testa, azione con la palla di Angliano di Gord, spai c'è il tiro e gol, è 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 gol, Scrinjar, Scrinjar! Era una partita difficile, abbiamo avuto diverse occasioni ma non riuscivamo a sbloccarla, loro si stavano difendendo bene e lo sapevamo che era una partita difficile, a loro servivano punti ma siamo stati bravi a sbloccarla e a vincere perché sono tre punti importanti oggi. E se ne scappa a campo aperto, lui e Sanchez, attenzione, anzi lui e Hakimi, e allora la palla è buona per Ashraf che va solo contro Kordaz, il tiro! E' gol, e' gol, e' gol, e' gol, e' gol, e' gol! Felici perché è stato raggiunto un traguardo bellissimo, abbiamo vinto uno scudetto, vincerlo anche in questa maniera con quattro giornate in anticipo, significa che comunque è uno scudetto strameritato, uno scudetto che abbiamo meritato, non ci sono altre parole, altri aggettivi per descrivere la grandezza di quello che abbiamo fatto. E' gol, e' gol, e' gol, e' gol! E' gol, e' gol, e' gol, e' gol! E' gol, e' gol, e' gol, e' gol. Grazie a tutti.